Convivenza tra edilizia residenziale e stabilimenti industriali, l'ipotesi di una riconversione sostenibile delle strutture e la possibilità di una loro delocalizzazione. A Roma arrivano le questioni ambientali della città di Barletta, della sesta provincia pugliese. Un incontro tra il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Picchetto Fratin, il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, l'assessore all'Ambiente del Comune, Anna Maria Riefolo e la consigliera Rosa Tuputi. Un confronto che riprende il percorso già tracciato lo scorso giugno, con la visita del ministro nella città della disfida. Un dialogo che l'amministrazione intende portare avanti in modo proficuo al fine di monitorare i vari processi ambientali, i vari procedimenti ambientali che riguardano l'installazione di parchi eolici offshore. Abbiamo parlato anche della situazione critica dell'area industriale di Barletta, della presenza di aziende insalubri e della possibilità di vedere in futuro la delocalizzazione di queste aziende o la loro riconversione industriale. Proficuo questo incontro, bisogna continuare anche con questa sinergia, perché è importante, io da tempo lo vado dicendo, la sinergia oggi istituzionale, cioè il territorio in collegamento con il Parlamento, in collegamento con il governo di Roma. Quindi così bisogna continuare su questa strada anche per dare delle risposte importanti su temi importanti, quali sono, tipo quello della salute dei nostri cittadini.